Apriamo la parentesi pallavolo perché c'è una squadra che qualche chilometro più su di Reggio Emilia a Trieste ha alzato ieri mattina in un orario un po' inedito la sua prima Coppa, la Coppa Italia di A2, Bartoccini forti infissi Perugia, abbiamo celebrato già stamane, era ospite nei nostri studi il presidente Bartoccini, abbiamo le immagini, uno direbbe 3-0 è stato tutto facile, invece 3-25-22 è stata una bella lotta, soprattutto il primo set è una grande soddisfazione. Soprattutto in tutti i set, Busto Arsizio a metà set è stato sempre avanti e quindi questo conferma però la capacità della Bartoccini di saper reagire, di rimanere tranquilla, di non soffrire troppo la pressione, di riuscire a rimanere attaccata, di accettare anche un po' gli errori, che specialmente in un gioco come la pallavolo è fondamentale accettare un po' anche il momento, accettare magari che puoi perdere un set, che un fondamentale può non riuscirti troppo bene e la Bartoccini in questo è stata bravissima, è diciamo un po' la ciliegina su quella che speriamo poi sia la torta già di fine anno, la ciliegina è stata messa, bisogna diciamo glassare la torta perché adesso anche in campionato ovviamente la situazione è comunque molto positiva, la futura giovane di Busto Arsizio tra l'altro è la squadra che sta tenendo più testa la Bartoccini, è l'unica squadra che di fatto è riuscita a sconfiggerla nella prima fase, nella cui promozione ancora la Bartoccini è imbattuta, Busto Arsizio è la più diretta in seguito, c'è più sei, però ieri è stata veramente una bella giornata, devo dire che vi ho fatto un po' un plauso in generale e secondo me ha come ripartita la Bartoccini quest'anno, perché l'anno scorso è arrivata una brutta retrocessione, dopo un campionato dove la Bartoccini era stata quasi sempre fuori dalle ultime due posizioni, poi è stata risucchiata l'ultima, è sempre stata terza ultima, a pochi punti di distanza, però è crollata proprio nel giornale. Ma poi ricostruire un nuovo allenatore non è facile, avere subito risultati. Assolutamente, anche la scelta dell'allenatore è per essere molto azzeccata, perché Andrea Giovi secondo me meritava questa chance, è un perugino e non è facile sicuramente anche essere profeta in patria, lui ci è riuscito sin da subito, ha dato anche subito un po' in identità questa squadra, mi sembra che la squadra rispecchi un pochino l'allenatore, è una squadra comunque grintosa, è una squadra che difende, è una squadra dove lui ha fatto vedere la sua mano, si meritava questa chance, è stato secondo allenatore per alcuni anni, adesso è diventato appunto il primo allenatore e poi questa è una squadra costruita anche bene. Il presidente l'anno scorso era stato subito chiaro, mi ricordo anche l'intervista dopo la retrocessione, c'era sicuramente rammarico ma c'era anche subito la voglia di ripartire e la società è ripartita bene riuscendo anche con alcune iniziative a coinvolgere più il pubblico. Oltre 200 persone a Trieste non è facile da portarcele. No, quindi considerando anche... Di mattina tra l'altro. Assolutamente, quindi sono partita tra l'altro prestissimo al Pugna, addirittura alle 3 di notte per arrivare in tempo, visto l'orario un po' diciamo assurdo a cui si è giocato, perché poi nel pomeriggio si è giocato alla finale della Coppa Italia Femminile di A1, però ecco, sicuramente anche nella costruzione della squadra c'è stata da subito le idee molto chiare. Ovviamente poi ripartendo comunque da una base quanto meno economica rispetto a quella dell'anno scorso, chiaramente fare la Serie A2 e la Serie A1 cambia ovviamente, la continuità tecnica non c'è stata perché di fatto solo una giocate c'è rimasta, però hanno trovato veramente delle ragazze che hanno un'alchimia giusta e sono riuscite a coinvolgere tutto l'ambiente. Questo non è un aspetto secondario. Ricordiamo, intanto non ci sente il Presidente, forse ci vede, farà gli scongiuri, mancano 6 partite alla fine della pool promozione, se Perugia ne vince 4 è in Saria 1. Sì, perché ha 6 punti di vantaggio da Bustarsizio, agli scontri diretti ha comunque il vantaggio in caso di arrivo a parità, quindi sì, sostanzialmente Perugia non deve sbagliare più di due partite, in generale secondo me è molto importante cercare di blindare da subito la promozione, anche perché in ottica mercato, in ottica costruzione, la scuola futura è molto importante, non solo alle varie prime ma cercare di essere subito sicuri. Ovviamente ancora ci sono alcune gare importanti, la prossima trasferta con San Giovanni Marignano, ci sarà l'altra partita, una trasferta delicata, la prima di ritorno a Macerata, però secondo me superati un po' questi due ostacoli, se il distacco dovesse essere questo alle ultime 4 partite, beh allora diciamo si possono fare gli scongiuri ma ci sono tutti i presupposti veramente per poter festeggiare. L'ultima battuta, stavolta si prende il ruolo un po' finale, la Sir Susavim che fa meno notizia in questo weekend, però torna a vincere e questo è positivo, ha due giornate dalla fine della regular season, con Trentino che è già sicura del primo posto, con Catania che è invece sicura a retrocessa, Perugia si toglie questo pensiero psicologico se vogliamo dire di vincere la regular season e poi di dover rispettare questo pronostico, forse sono un po' più leggeri adesso sui giocatori Lorenzetti. Probabilmente sì, credo che la Sir debba fare, e penso che i giocatori già l'abbiano fatto, penso debba fare un po' l'ambiente diciamo in generale, l'idea di, come dicevo prima di Abartocci, accettare l'errore, accettare la sconfitta, accettare il fatto che un set si può perdere, che una partita si può perdere, che in un fondamentale si può essere carenti in una giornata. Se la Sir secondo me, e non parlo appunto tanto della squadra, ma dell'ambiente in sé accetta questo, secondo me la Sir ha tutte le chance per potersela giocare, anche ovviamente per lo scudetto, come dicevi te, ormai il secondo posto è blindato, lui era già fondamentalmente dopo la giornata di sabato, perché appunto Piacenza è andata inopinatamente a perdere, però ovviamente la Sir adesso ha la prossima gara in casa con Trentino, che è la penultima, che non con Trento, che non conta, si fanno le prove, diciamo. Si fanno le prove generali per vedere, con la squadra che in questa regular season è sicuramente stata migliore della Sir, lo dicono anche i numeri, lo dicono le statistiche, per vedere quanto è effettivamente la differenza con Trento e per giocarsi questa gara, in attesa poi di capire ovviamente quale sarà l'accoppiamento ai play-off, quale sarà la settima in classifica con cui la Sir andrà a scontrare sei quarti, sapendo che ovviamente potrebbe essere anche una squadra come Milano, come Verona, squadre che in passato hanno messo in difficoltà la Sir. Basta esserne consapevoli. Certo, la stessa Verona ha portato al quinto set Perugia proprio una settimana fa. Staremo a vedere, io ringrazio Lorenzo, ovviamente maggiori dettagli ulteriori nei nostri TG con immagini dopo gara, ovviamente stasera seguiremo il campionato di Serie C di calcio con il Gubbio in campo, su Unbiatv andrà in onda fuori campo, ma noi torniamo anche nei nostri TG, già dalle 13 nel TG unico e alle 13.50 con il TG Sport a cui vi lascio. Grazie e buon proseguimento con Unbiatv. Grazie a tutti.